selenne sei con me al milanio marittima buongiorno selenne ho portato anche mio marito oggi vediamo questi ombaccioni che fanno palestra se reggono il time dell'aerobica di selenne la farai oggi è caldo ragazze guardate scatenata quando mai non è carica vabbè cominciamo io non so se voi rendete come ci siamo apparecchiati allora papà intanto leggete bene qua ragazze il tempo ma leggete anche qua tutto è possibile e selenne insegna perché tra un po vi pubblicherò non riesco a girare papà fra un po vi pubblicherò anch'io quando mi sono iscritta con selenne mi ero un po confiata prima e dopo fra un po arriverà anche il corso della franchi perché selenne ogni tanto le pubblica tutto è possibile papà com'è stata la verità il gluteo mi ha spaccato meglio selenne il mio marito non ha retto l'esercizio del gluteo ma lo dice anche tu selenne che quando uno fa fatica può anche togliersi i pesi gli ha tenuti ma c'era io che dicevo papà non mollare non mollare adesso stiamo facendo il defaticamento siamo alla fine c'è una retta grande motivatrice grande donna abbiamo finito il nostro dovere papà sentire cicale ciao selenne la selenne se ne ritorna con la tazzari bye bye selenne anche oggi il nostro doverazzo com'è che si dice papà anche oggi il nostro dovere l'abbiamo fatto cara selenne bye bye allora questa è la tazzaria del proprietario ok lui se l'ha fatta così questo è del bello impossibile quello che vi ho postato ieri e questa è la nostra secondo me la tazzari più bella ce l'abbiamo noi ma le ragazze vengono con noi nostra enrico no tazzari di eric tazzari lui dice di pensa di avere la più figa ma la più figa ce l'abbiamo noi vero papà la più bella ce l'abbiamo noi vero lui Gandini è il mitico Gandini impegnato molto sì impegnato molto lui è tazzari ho appena fatto un video fuori con le tre tazzare e ho detto che tu pensi di avere la tazzare più figa ma non è così comunque lui ecco lui racconta la tua macchina elettrica dillo macchina elettrica gamma di macchine elettriche spettacolari il bello impossibile il proprietario di quella rossa solo impossibile solo impossibile quindi non inquina zero emissioni elettrica la carichi alla presa di casa velocissima la puoi mettere ovunque anche sotto un albero ti diverti lui dimmul ed è un genio fa delle cose stupende ora dove stiamo andando? io li invidio tanto sai io non ce la farei sotto l'ombrellone 5 ore secondo me è stato dell'ombrellone adesso si va a padre mi piace mi piace che sfogo la mia parte camionista nel fardo è certo vero? diventa cattiva molto cattiva molto cattiva molto cattiva si diventi un po' non posso dirlo no va bene pronta? si parte? si dai oggi sono competitivi maschilisti cattivi e dicono che noi abbiamo fallo quando in realtà non abbiamo toccato nella rete ne rivediamo 30 punti a partita oggi proprio si vede l'ottocento nel vostro DNA ma voi io né io né suele suele veni qua cos'è che cantiamo? fatti bambare dalla mamma la stiamo vincelate oppure guardate se è rossa la sabrina allora nelle competizioni si vede la vera natura degli uomini oggi su questo campo oggi vinciamo vinciamo oggi giocate tutti i giorni la stiamo vincelata la stiamo vincelata la stiamo vincelata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ci siamo allora non voglio portare male dicono che potremmo vincere dicono speriamo Porta Italia speriamo mamma il tuo non ce l'ho io il mio notate le mie ballerine ragazze non si scherza a parte i graffi andare in canoa sei andata in canoa con quella? no ieri mi sono graffiata no no non in canoa con questa mi sono graffiata in canoa abbiamo perso la gingi papà non so sta arrivando io non la vedo papà se lo sto chiamando mamma mia ma come siamo tutti in tiro guardate che tavolone che abbiamo allora in ogni angolo di questo locale ci sono televisioni adesso voi non le vedete guardate questa posizione è andata è andata mamma è andata Grazie a tutti.